Bello! Andiamo a vederne qualcuna giusto per dirvi su che cosa vorrei buttare ad esempio su un Junkrat Dr. Junkstein guardate che cazzo di figata su un riperone mietitore è bellissimissimo e queste sono le leggendarie diciamo che mi interessano e tra le epiche ragazzi c'è questa qui di Reinhard che è bella 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 c'è anche la leggendaria di Rodog che è spettacolare e Mercy Strega ragazzi secondo me è troppo figa guardate con il libro qua sotto che pensola davvero 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 molto molto figa ci sono anche delle mot bellissime signori guardate quella di Reaper è troppo troppo figa quindi andiamo a spacchettare lo faccio un po' per me un po' per voi se devo essere sincero prima cassa e non troviamo le leggendarie ma va bene ho trovato la posa eroica di Zeniatta che però queste qui nelle tombe non mi piacciono quindi 35 siamo forziere speriamo bene speriamo bene speriamo bene speriamo bene uh uh Mcree Mcree va bene sono molto 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 uh aspetta 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 la posa vittoriosa di Mayda dentro alla tomba è molto molto carina questa mi piace dai però va bene apriamo il 34esimo forziere uh 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 duplicato La superstizione La superstizione 33esimo Eccolo me la sento me la sento me la sento È bella soldi Solo soldi per il vostro Marcus Crone Davvero solo soldi vorremmo qualcosa di più Vorremmo Nope E va bene così non troverò niente In 30 casse Speriamo di così Porca la puttana Non è possibile Ancora un'altra Eccola Attenzione Una Mei Bello Bellissimo Usa subito immediatamente Leggendaria Leggendaria Molto 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 triste Visto che non uso le skin leggendarie di soldato Questa qui nera In realtà non mi dispiace Però non è una leggendaria Stiamo già a 29 forzieri Non troverò mai niente Posso essere così sfigato C'è gente che nella cassa quella gratis Ha preso tipo subito una leggendaria Io sto soltanto a far duplicati E cose che non mi interessano Dai Vediamo che dice Adora lavorare di notte Va bene Va bene Eccola Me la sento Questa Non la guardo Non la guardo Non la guardo Sì Cazzo sì Una leggendariozza Bella Bellissima Non è Jankrat Che io uso più spesso Però va bene Che figa No ragazzi Sono fatte mille volte meglio Di quelle altre Siamo a 23 forzieri Possiamo farcela Oh oh Quella di Reinhard Ma vi è quello di Reinhard Ma vi è quello di Reinhard Sì Sì cazzo Sì Coldheart Bellissima Favolosa Mi piace Un botto Ok Ok Adesso ci vorrebbe Mercy O Jankrat Eh No Adesso parte una sequela Di su qui C'è Anzo morto Panzo morto Andiamo avanti Ci riusciremo? Non ci riusciremo? Non ci riusciremo? Questa è McRee Che tira fuori Vediamo che Hai paura di affrontarmi? Hai paura di affrontarmi? Andiamo avanti Oh Me la sento Me la sento Me la sento No devo fare come prima Che non devo guardare Che c'è un bastion Dei soldi Potremmo Costano 3000 Le leggendarie nuove Ragazzi Costano 3000 Le hanno messe i comprabili Ma 3000 Sono un sacco di soldi Siamo a 19 forzieri Possiamo farcela Questa non la guardo Non la guardo Non la guardo La guardo La guardo No Genji da giovane Io lo odio È bruttissimo Regà Fa cagare Genji da giovane Vediamo qui che fa Spocchia Usiamo Mettiamo spocchia Perché con la mega skin Leggendaria del lupo Ci sta un cifro E apriamo il Non mi ricordo Quale Forziere Sì Soldi Perché i soldi Apriamo una Pagno No Non è il momento Niente Altre La superstizione Duplicato Pure questo Ecco il dottore Signori Siamo a 16 Però una leggendaria L'abbiamo trovata Certo che Su 39 Una leggenda Oh Attenzione Una Non mi ricordo mai Che cos'è questa Epica Di Simmetra Vampiro Che non è Simmetra tra l'altro C'ha un bello stacco Del bucio De culo Se devo essere Sincero Ci piace Ci può piacere Ci può piacere Gli ultimi 15 forzieri Dobbiamo sperare Almeno un'altra Leggendaria Altre Di meno Del culo Andiamo Nope C'è Cosetta Qua La pistola Così E si Con sa Questa Me la prendo Andiamo Avanti Dai Dai Berò del caffè Uh Mamma mia Riperone nazionale Che figa Che è questa Ragazzi È troppo Fatta Bene È davvero Troppo fatta bene Mi piace Un casino Grande Grande Certo Il corvo È più truzzo Però questa È troppo figa È troppo 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 figa Questa qui Lo spray di Ana Me lo prendo Perché così Quando addormento Gli stronzi Ce li metto dentro E siamo a 13 forzieri Che altre agenti ci mancano Ci manca Mercy Ci manca Mercy E Jankrat Signori Il crociato di dita Insieme Andiamo ad aprire La tredicesima cassa Uh Uh Tre Tre epiche Vediamo un po' Ma che cos'è Mi piace più quella Qui Vediamo Vediamo Uh Ah questa non ce l'avevo Mi piace più Quella che c'ho io Che si tira su E qui c'è Genji Che taglia le zucche Molto bene Grazie Genji 12 si può forziere Non lo guardo Bevo il caffè No l'ho guardato Ho mentito L'ho guardato Infatti non ho trovato niente Bastion così Non ci interessa 11 si può Guardo Non sto guardando Non sto guardando Paccottiglia di merda Ok 10 casse Signori 10 casse 10 casse Una rara Una epica Tutto duplicato Tutto fottutissimamente Duplicato Apriamo un'altra Oh Qualcuno mi dia una pistola Col green screen Se metto gli occhiali di hipbox Svaniscono No si vedono Com'è possibile Verde Allora Abbiamo Una Widowmaker Vampirella Che non è male Non mi dispiace Però Un Torjuan La posa eroica Ma non Eccola Ci interessa 8 Forzieri 8 Fottutissimi Forzieri Vai 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 Ce l'hai Io mi Mi voglio un pochino Rifiudare Mo' li apro tutti A mazzetta Eccolo Oh Molto 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 Triste 5 5 5 5 Non è Duplicata Vero Ma questa Ce l'ho Non lo so se ce l'ho Ma chi se le frega 5 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 L'ho presa L'ho presa Bellissima Mamma mia 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 È troppo figa E poi Scusate Perché adesso Torna un attimo indietro Ci mancano 4 forzieri Non credo Quanto è il freno Eccolo qua Non emote Come si chiama Ma Highlights Guardate quanto è più figa Ecco la skin Di Halloween È davvero davvero Uno spettacolo Incredibile Ragazzotti Allora facciamo un punto Della situation Dove sto andando Abbiamo trovato Riperone Abbiamo trovato Roadhog Non abbiamo trovato Ah ho trovato pure Da solo Con la prima cassa Effettivamente Questa qui Di Bastion Che però è carina Non è Però Vabbè Ah c'è pure quella di cosa Dov'è Goul Questa è fighissima Però costano poco Me la posso comprare Quindi vedete Non è un problema L'unica cosa Sono quella di Junkrat Del Dottore Che costa 3000 Di soldi Io ce ne ho 5400 Quindi per forza di cose Dovrò sceglierne una E io uso più Junkrat Quindi sarebbe bellissimo Che in queste 5 casse Ci uscisse Quella di Mercy E poi mi compro Quella di Junkrat Giusto Quindi Incrociamo tutti Le barbe Signori La quarta cassa Quindi sono di meno Mercy 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 Non esce Mercy Mercy Non esce Cos'è questo Questa secondo me Non è tanto bella Però va bene Mercy Mercy Zinne dei fori Dai Perché me fai così Questo già ce l'ho Questo già ce l'ho Mi sto avvicinando Però a 6000 Però non voglio spendere Tutti i miei soldi Le ultime 2 Eccola Ragazzi Ma posso essere così sfigato Posso essere così sfigato E' l'ultima questa E' l'ultima E' l'ultima Di Mercy 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 Due rare Ah un soldier Soldato Morto E soldi Ragazzi Le casse sono finite Le mie finanze sono finite E adesso dobbiamo scegliere Allora Mercy La uso poco Però secondo me E' la più figa Di tutte Soprattutto perché Non so se Vedete bene Però Giancratte lo uso Tanto Quindi Non lo so Io direi Io direi Di aspettare Direi di aspettare E comunque Ragazzi Abbiamo trovato Riperone nazionale Che è spettacolare Con le emote Davvero Davvero Figa Non so perché va di Addestramento Quando vorrei andare In galleria eroi Devo dire Che anche Reinhard Con questa skin Fa la sua Porca Porchissima figura Mi piace moltissimo E questo spacchetto Termina qua Per ora Ci rendiamo questi soldi Se fino alla fine Dell'evento di Halloween Che finisce il 31 ottobre Riuscirò ad accumulare Altre chest Spero di poter fare Un secondo spacchettamento Questa volta Non shoppando Non tirando fuori i soldini Con E cercare Quella di Mercy Che figa E quella di Junkrat Che figa davvero Quindi signori Per supportare Questo sforzo Del vostro Alcus Grone Lasciate un bel Mi piacione Che è gratis E noi ci vediamo Un nuovo video di Overwatch Della Lasciate un bel Lasciati un bel